Siamo iniziati con l'esame Intanto se ci parlo un po' di lei, quello che vuole, se si può presentare Io mi chiamo Lui, sono nato nel Monsanto, in Uruguay Quando avevo 18 anni, poi ho un video, capitato in Uruguay Allora, qui ha queste e quattro immagini, ne può scegliere due, cose che vuole Se ci può descrivere, per favore Questa Ci sono due persone In queste immagini ci sono due persone Una mamma e un bambino La mamma aiuta A... A... Puoi dire A... 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 sos... A... A... La famiglia è molto merosa, ci sono quattro persone, papà, mamà, bambini e bambina, fare il cibo, il supermercato, la spesa, la mangiare, un bambino porta cocomero, i peperoni, frutta e verdura, con la carrella, molto sorriso, molto felice, anche se sono bambini. Possiamo fare una foto, Luizio, poi dobbiamo parlare con i ragazzi, guarda voi se non me li mandate, a noi, grazie, io ho visto, aspettate, fratello del mio amore, io adesso posso, salve, con i ragazzi, salve, 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 grazie, 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 grazie. Lo so perché lui per farlo parlare...